Salve ragazzi, sono Marco Brocchieri, coach di Fondazione Monodigitale per quanto riguarda la robotica e internet delle cose. In questa pillola continuiamo a vedere Tinkercad. Il Tinkercad è uno strumento che permette di modellare in 3D e di creare dei circuiti elettrici. In questa piccola dimostrazione vediamo come controllare un motore utilizzando una batteria. Un motore lo troviamo qui a destra. Motore CC sta per motore a corrente continua. Si tratta di un tipo di motore che ha dei capi elettrici attorcigliati intorno al pignone quando questo motore è attraversato da corrente i cavi generano un campo elettrico il campo elettrico genera un campo magnetico questo campo magnetico permette al pignone di ruotare su se stesso. Vediamo subito come funziona. Colleghiamo il positivo della batteria al morsetto 2 vedete che è sempre rosso del motore e il morsetto nero del motore lo colleghiamo al negativo per chiudere il circuito. Avviando la simulazione vediamo che il motore inizia a ruotare come vi dicevo quindi un motore permette di trasferire l'energia elettrica e di trasformarla in energia cinetica e il motore ruota a una velocità c'è scritto di 17.568 rotazioni al minuto. Andiamo a interrompere la simulazione e andiamo a invertire la polarità quindi colleghiamo il rosso positivo della batteria al negativo del motore e viceversa. Quello che otteniamo invertendo la polarità è che il motore ruota nel senso opposto vedete che c'è il segno meno quindi ruota a una velocità di meno 17.568 rotazioni per minuto e lo vediamo anche dal disegnino che ruota nel verso opposto. la velocità del motore è data dalla quantità di corrente che lo attraversa quindi andiamo a eliminare i cavi inseriamo nel nostro circuito un potenziometro che è un dispositivo che abbiamo visto nella lezione precedente il collegamento sarà negativo della batteria al morsetto 2 del motore morsetto 1 del motore al morsetto 2 quello esterno di destra del potenziometro il contatto mobile quindi il centrale del potenziometro lo colleghiamo al positivo e andiamo a chiudere il circuito abbiamo detto che il potenziometro è un dispositivo dotato di una piccola manopola questa manopola ci permette di regolare la quantità di corrente che transita nel circuito quindi in realtà un potenziometro è una resistenza a grandezza variabile avviando la simulazione vediamo che il motore ruota a meno 5 rpm andando a ruotare il potenziometro e quindi aumentando la quantità di corrente vediamo che piano piano il motore prende velocità e ha un picco qui nell'ultimo tratto arrivando al massimo a meno a meno Grazie.